Anno nuovo e stesse abitudini. Un 2023 iniziato con il piede giusto da una VL che alla vitri frigorena prevale nettamente su Treviso vincendo per 101 a 72. Un successo che per i biancorossi ha significato tanto. Il ritorno ai due punti dopo due sconfitte consecutive e il ritorno con matematica certezza alle final eight di Torino in programma per febbraio. Ottima prestazione della squadra di Repiscia brava sulla circolazione di palla per poi trovare le manone di Kravic che chiude con 21 punti e il tiro da Tre di Moretti che ne ha messi a referto 19. Carpegna prosciutto basket pesero che ora si trova appaiata al quinto posto in classifica in attesa dell'ultima partita d'andata a Scafati per capire come si posizionerà in vista della Coppa Italia. Dai biancorossi della VL ai biancorossi della Vispesero che non potevano immaginare un migliore inizio di anno nuovo. Dopo un 2022 chiuso con la vilente striscia di 13 partite senza vittorie e tre sconfitte su tre con brevi in panchina, i biancorossi sfoderano la migliore prestazione dell'anno ed espugnano Fiorenzo Ladarda con un 0-3 sul campo degli Emiliani che di punti ne avevano il doppio della Vis. A decidere l'ottavo gol di Fedato arrivato al tramonto del primo tempo, la prima firma stagionale di Di Paola che disegna una punizione magistrale al 52esimo e il primo gol in maglia Vis di Pucciarelli che chiude i conti al 58esimo al termine di un perfetto contropiede corale. La Vis vince e si rilancia in classifica passando da penultima a intravedere l'uscita dai play-out. Dalla serie C alla serie D, tra fine 2022 e inizio 2023 non cambia la musica dell'Alma Juventus Fano che incappa nella terza sconfitta di fila. Almancini vincono i lazzali del Nuova Florida per 0-2. Come la Vis nel calcio, anche per l'Ital Service nel calcio 5 è stata una partenza di 2023 con un importante cambio di passo. I ragazzi di Colini con grande cuore si rianimano dalla striscia negativa di 4 sconfitte consecutive e tornano a vincere nella sera dell'Epifania lo scontro diretto col Petrarca-Padova. Il primo tempo si chiude sull'1-1 con Alflen che risponde al vantaggio veneto. Nel secondo tempo l'Ital Service coglie due legni e trova il gol vittoria di De Oliveira che dà ossigeno puro nella risalita della classifica. Ossigeno puro e sorpasso della Megabox Vallefoglia che sul parquet di Cuneo batte una diretta avversaria chiudendo il match per 3-7-2. Seconda vittoria consecutiva per le Tigri che ora vedono distante la zona playoff di un solo punto.